Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video posso finalmente dirvi come completare la prima sfida di Tempesta, ossia quella che richiede di visitare una stazione meteorologica nei panni di Storm, cioè Tempesta. Per fare questa sfida dovete arrivare per forza al livello 60 del pass, perché dovete sbloccare Tempesta più le sue sfide, ovviamente. La prima sfida richiede di visitare la stazione e si trova qui. Potete farlo in qualsiasi modalità, è indifferente. Quindi selezionate la modalità che preferite, l'importante è scegliere Tempesta come skin, altrimenti non funziona. Quindi scegliete Tempesta e atterrate praticamente qui dove vi ho indicato la famosa stazione meteorologica presente, diciamo, da sempre in questo nuovo capitolo. Quindi arrivate qua, atterrate con Tempesta e la sfida è completata.